Non c'è quasi nulla perché se non costruiamo anche una politica comune europea sul piano della politica estera non potrà mai realmente venire una difesa comune europea. Tanto è vero che se voi andate a guardare la bussola strategica che dovrebbe veramente costruire linee strategiche per una reale difesa europea, non c'è quasi nulla. Quello che invece stanno perseguendo è soltanto maggiori investimenti, stanno favorendo la corsa al riarmo e in particolare si stanno concentrando sul Made in Europe che per carità può aver senso, ma non è quella la difesa comune europea. La difesa comune europea è sicuramente un'opportunità che va però costruita, impostata in modo intelligente come un'occasione per razionalizzare la spesa militare, per realizzare economie di scala. Noi non siamo contrari alla difesa comune europea, alla perdita di credibilità di leadership dell'Unione Europea investendo in aiuti militari. Dobbiamo dire ai nostri ministri, a cui è stato dato il compito per il prossimo giugno di portare un piano di finanziamento straordinario per favorire questa corsa al riarmo che non è così che offriremo una soluzione ai problemi che si stanno incancrenendo della nostra Europa. Dobbiamo dire alla BEI, che al di là di quanto è invece scritto nelle conclusioni dell'ultimo Consiglio europeo che deve continuare a privilegiare finanziamenti rinnovabili e non verso gli investimenti militari.